E salve a tutti ragazzi, qui è Paz, benvenuti in questo nuovo video E oggi dopo un sacco, ma veramente un sacco anche troppo di tempo, siamo tornati con... Ma chissà con chi saremo mai, ma ragazzo C'è una varietà di ospiti in questi video che è strabiliante, cavolo Oddio, sei riuscito a riportare Valenter sulla retta via Ah, tu sei riuscito a riportare Mega Ha giocato un po' troppo al LOL, dai, a me Sei tu che hai più win su LOL che su Smite Vergogna, hai fatto pure una ranked Allora, io gioco a LOL Dai, giochi LOL da quale season? Io gioco a LOL dalla pre-season 1 E sono arrivato al 30 l'altro ieri praticamente Ma fuori dal cazzo Una settimana fa Comunque abbiamo gente molto scarso in Teamer, non direi Sì, infatti, come quello che ha scritto in chat Non di cosa sta facendo Anubis Ma ragazzi, ma che cos'è? Ma cose brutte Anubis ha a metà vita, ma ci ha morto No, no, Anubis Non farmi questo Da notare che sono tipo le 10 di sera No, 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 no Sì, 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 invece, sì Ok fertilizer Firstpong Yes transformations Oddio Ma in tanti in chat si sono persi tante belle cose Tipo io Tipo uno che diceva che aveva 700 di ping Un altro che erano i dici Ah, è vero Tu n'ulti saprei Non hai preso l'assist Ma hai preso l'assist Sì, sì Spero di sì Care dice che sono le 10 di sera Lo precisa Comunque, ragazzi, per precisare, io sto usando il Champion Dio coso qua Che Bro che non ho mai visto nella storia Guarda, è talmente malato che dice Champion Dio Ma cosa vuoi, fatonna, ragazzi? Cazzo, ma io c'ho Nuwa a mid, non Anubis Appunto, Nuwa è molto pezzo per gli Anubis E infatti questo cambia tutto Porca di Goobis Ah no, ho anche Anubis mid, perché era troppo facile Lo vuole questo il Bro o cosa? Non ho capito bene Take this jungle buff Ma io c'ho anche Anubis, regà, ma come dovrei farlo? Non capisco la scuola di questo Oh, parliamo un po' della skin Archon di Thanatos Allora, è la cosa più figa mai vista nella storia di Smythe È la cosa più figa, ma è la cosa più costosa vista sulla storia di Smythe Perché per farla bisogna comprare tutti gli item della Odyssey che costano in meno Che tra parentesi sono 21, sono 22,21 Sono 100 euro in totale Sono 100 dollari convertiti in 80 euro No, 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 sono 100 euro, non 100 dollari No, 8000, cioè a me basta 9PL tutte Ne servono 7600 Sì? Vabbè, no, perché tu ne hai già presa alcune, vabbè No, no, 7600 in totale servono, a te servono anche 6.000 Vabbè, comunque Parlando, se avete iniziato a prenderle dall'inizio dell'Odisse Allora forse probabilmente siete a posto Avete qualche possibilità Esatto Se invece non ne avete presa neanche una Beh, siete della merda fino al collo Non l'avrete mai quella skin Dimenticatevela E la cosa brutta Grande commercialatona infinita Ma non li biasimo perché ci devono fare i soldi anche loro Se voi non la prendete ora Non sarà più disponibile nella storia di Smythe Ma proprio mai Che bellezza Mai più Addio E fu così, l'hanno davvero rimesso Vabbè Un po' come l'icona della beta tester Sapete quando arriverete tra due anni a dire ai novellini Io c'ero E vi farete figli in un modo assurdo Ma è nello stesso concetto Esatto, è la stessa identica cosa Potrei dire Io ho comprato una skin da 100 euro Allora ti daranno Bravo coglione Hai speso 100 euro per una skin su un gioco Fantastico No, in realtà ti danno altre 21 skin No, in realtà ti sbaveranno dietro Perché quella skin Rosicheranno a merda Perché la skin è di un figo Che non finisce più Si, ho capito Vabbè, ma 100 euro Effettivamente Vabbè, però ho presi 100 euro in 5 mesi Sì, sì, sì Li prendi Se avessi cominciato a prendere tutti gli item dell'Odyssey dall'inizio Piano piano sarebbe stato fattibile Ma la madonna, noobis No, non è Oh, Cristo, ma son nato Ah, io ho un escape Zucchi Zucchi Non abbiamo parlato dei nostri dei Poi, vabbè Non giochiamo a smite a tanto Sono le 10 di sera Quindi perdonateci Ma che 10 di sera È l'una Che cazzo dice È mezzanotte e mezzo È mezzanotte e mezzo Non lo diciamo a nessuno Non lo diciamo a nessuno Oh, Dio Ragazzi, fuori fa un freddo Parliamo di cose molto Che c'entrò molto Vabbè, inizia tu a parlare del tuo Agni Visto che c'è un più vecchio Parliamo del mio Agni Aspetta un secondo che Bagasura mi ha scaracciato in faccia a 400 Minion E sto cercando di morire, sai? Perché Bagasura fa True Damage Non è OP No, no, no True Damage a dare è quando usa la ultima Un po' simpatico Un attimo Mi devo deliberarmi di questi Minion Allora, ora posso parlare un po' di Agni Mentre i Minion davanti a me Trapparente sia la skin più brutta del gioco Quella che è lui Tranne Super Crono 64 Che è orrenda È un errore Super Crono 64 è un errore Non doveva mai esistere No, è qualcosa di osceno Non sarebbe mai dovuta esistere una skin del genere Davvero, cioè Che poi sia un errore, ne dubito Però è orrenda È proprio un errore Secondo me qualcuno stava programmando smite sui Unity Poi hanno riuscito a cambiare engine E è rimasto quello No, Pat, ti salverò io No, è morto No, non lo fare, no Mamma mia Non era morto Mamma mia L'avete visto L'avete visto, la puzza La puzza Vabbè, ho confidato Morca Meglio Sì, ho confidato Morca Meglio di Agni Te lo concedo solo per quello Vai, vai, continua con la tua bellissima prima Allora, cominciamo Cominciamo a parlare di Agni La mia prima Noxus Fumes In sostanza mette Questo Ah, questo cerchiolino bello e simpaticone Del gas Che fa danno per tick Però non fa un cazzo praticamente Praticamente nullo Fa al massimo 50 di damage Per tick Veramente schifosa Serve solo a interrompere i regol Alla fine, perché è stantanea Sì E oltre a quello Serve anche Combinato con la seconda La terza O la ulti A stunnare i nemici E Valenter però Non puoi fare queste cose Questa è la mia simpatica ulti Che è assolutamente poco broken Vedete È la ulti di Taranto È l'agressione forte È solo che il level Uccide sotto il 35% Non il 40% Peccato che ti faccia scappare Peccato che ti faccia scappare È la cosa più B del gioco Vabbè la tua passione non esiste Perché l'altro è il dot più schifoso del gioco Quindi Non esiste È più schifoso No vabbè Schifoso no però È indecente Sì in sostanza Non la dico neanche È troppo inutile Dot sull'abilità Un dot di skill È un dot Esatto La mia seconda Fa tipo questa roba di fiamme È un muro di fiamme Che si chiama Flame Wave Vabbè Ondata di fiamme Ondata fiamminga Flaminga Flaminga E mi piace troppo correggere così Ondata flaminga Perché c'entra molto con le fiamme Che triggerata Che triggera La mia prima Stun Fa danno Eccetera Solita abilità Fanno danno Poi la mia terza Mi fa fare Quello che avete appena visto Mi fa correre Una sorta di corridoio Di fiamme Che incenerisce il terreno Sotto di me E brucia i nemici Che ci passano sopra Mentre la mia ulti Si ricarica Ogni 20 secondi Una meteora Che io posso lanciare E fare danno Dove voglio Esatto Ci ha tre stati meteori Tre meteori Sì Ogni 20 secondi In un minuto Me ne faccio tre Se qualcuno non fosse Sì Così avvezzo la matematica Da capire che Che 20 per 3 Fa 60 Comunque E basta Parla pure Di Aokwang Ma tanto Se le iscrizioni Le trovo noiose Però vabbè Per gente Che non conosce Sono informative Sono informative Ma secondo me E' arrivato Il drago in faccia Vabbè C'è gente Che l'inglese Non lo sa Vabbè Ma dico Secondo me Leggerle Lascia Quella sua La loro La loro La loro Sapete Perché questo mondo È interconnesso Il contesto Tutto il contesto Esatto Dicevi Parla pure Di Aokwang Dicevamo Allora Attenzione Non di Aokwang La mia passiva È una cosa Che non esiste Perché tanto Non sarà Caga nessuno Vedete questa Spadina del cazzo Sopra la mia Icona del personaggio Questo è un Bagasura Questa Per ogni Skill che tiro Consuma una Tacca di questa Spada Che cosa fa Una tacca di questa Spada Consuma la tacca E aumenta il danno Ma a chi Beh son Comprato idiota Vabbè Non work Uguale E ricordiamo Che Aokwang E' uno Degli dei P.O.P Attualmente Voi non avete visto Niente Quell'execute Non è mai stato Commesso E dicevamo La mia prima Come avete potuto Osservare Mi fa diventare Invisibile E mi lancia in avanti Cioè Mi teletrasporta in avanti Bello Mi teletrasporta in avanti In questo modo Per 5 secondi Sono invisibile Finché non prendo danno O faccio danno O tiro qualsiasi Tipo di skill In quel caso Allora O di attacco base In quel caso Io verrò rivelato E i nemici potranno Ricominciare a farmi Vale se mi copri la mid Mi fai un piacere Perché io non sono ancora Andato back E ho 4000 gold La spenda Io sono appena andato back Quindi non ti coprirò niente Vabbè vai back Tanto ti deve fare Noobis Noobis Ma in chat C'è core che socializza Non è possibile Grande cosa Comunque ci mettono 5 secondi A rifargiarsi Geniale A ricaricarsi A rifargiarsi Le tacche della spada E vabbè 5% di danno in più Che non è un cazzo di niente Perché tanto Quanto ha talmente Nanto danno Che non ha senso Nient'altro Sì e inoltre Tra i rotation del kit Degli attacchi base Più veloci Di tutto il cazzo di gioco Quindi c'hai Osiris No è più veloci di Osiris Qualcosa di spaventoso Beh dipende Di base penso di sì Qualcosa è ridicolo C'è 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 per uno stuzzicadenti Vabbè No Osiris Tipo supera l'uno Di attack speed Mentre Cioè Mentre tu no Tu senza item attack speed Non superi l'uno Comunque Teletrasportandoti in avanti Voi lascerete Una specie di copia acquatica Di voi dietro Che potete far detonare Ripremendo il tasto E facendo Un danno di 290 All'ultimo livello Di 35 di scaling Su 70 Quindi sarà come La mezza schifezza Diciamo Di scaling Ora vi insegno una cosa importante Per i novizi Come counterare a Nubis Beats Beats fine Addio Nubis Ora spieghiamo anche questa attiva Perché è la prima volta Che io prendo un attivo Mi pare Un attivo utile Allora Spieghiamo Land of the Gods Ragazzi Allora fa danno ai minimi Le beats Allora Che cosa servono Eliminano i cc Basta Non fanno nient'altro Cioè in sostanza Hanno un cooldown di 135 secondi Perché io ce l'ho Al livello 2 Ma al livello 3 Hanno 90 Secondi di cooldown Mi eliminano i cc Quindi lo stun In questo caso Di Anubis E permette di muovermi Fuori dal suo Mamma fai Mamma fai E dalle sue Grasping O rasping O grasping Hands Come le vuoi Grasping hands Ok In sostanza Niente slow E niente stun Quindi Anubis muore Ok Vabbè Niente di che Insomma C'è solo L'attiva più utile Del gioco Vabbè Andiamo La seconda La seconda Che ho utilizzato Dall'inizio della partita 427 volte Evoca dei fottuti Fottuti draghini Intorno a me Che fanno danno Sui miei attacchi base Quindi Tutututu Un po' in ritardo Rispetto ai miei attacchi base Cioè Fa una specie Un mitragliatrice Di draghi Che va in faccia Al nemico Che fa un danno Spropositato E inoltre Se voi Non consumerete Tutti i draghi Della skill Che sono Non mi ricordo Boh Non lo so Sono un numero di draghi Vabbè Non mi ricordo esattamente Comunque Se non li consumerete tutti Potete ripremere Il tasto 2 In questo modo E tirare in avanti Facendo il danno rimanente Che farebbero i draghi Un po' di meno Il danno rimanente Totale Sì Un bel po' di meno Però soltanto Al primo bersaglio Esatto Al primo bersaglio che incontra E slowerà Tuttavia Questo sarà utile Per attaccarsi ai nemici E lo slow stack Anche sul numero di draghi Che è rimasto Bravo Bravo Questa è la mia ulti Che fra poco spiegherò La mia terza È semplicemente Uno skillshot Che funziona Come una specie Di attacco base Quindi È uno skillshot Ad area Sì Uno skillshot Uno skillshot Che è anche Un attacco base Ad area Quindi se prenderete Il polinomicon Funzionerà Con il polinomicon Che vabbè Intanto io Ho mostrato come usare la terza Per clearare le wave Con Agri Molto complesso È un po' come una versione Della prima di Bozo Che non fa danno Ma a parte quello La ulti è invece La madonna Non sei morto No Non ti fa un cazzo No 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 C'è anche una Fottuta Baccasur Wow Baccasur Cosa Baccasur Ma dove C'è Baccasur È appena andata via Ecco l'ho visto Vabbè Comunque La mia ulti Che avete visto Per tutta questa partita È una cosa Praticamente Dettagli Vabbè È un aggettivo Che comunque Ci sta molto Che praticamente Ha una range Minore del mio stesso Cono della terza One shotterà un nemico Che è sotto il 35% Della sua vita totale O altrimenti Farà semplice Fa malissimo Fa malissimo Oh porco il cazzo Fa male Ma Meno male che sei Sono morto Addio C'è Baccasur C'è Baccasur Sono morto uguale Allora No 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 Non c'è Sono un Una O'Quang Ti credo E se Non riuscirete A eseguitare il nemico Ovvero farete Il danno Prima che Utilirete la ulti Prima che appaia L'indicatore Intorno ai nemici La ulti farà Un danno Base di 290 E non vi permetterà Di scappare Ovvero Se eseguterete Un nemico Con la vostra ulti Il O'Quang Salterà per aria E vi permetterà Come un po' Come la ulti di Thor Di riposizionarmi In un punto Qualsissimo Una mappa E cadendo Farete 300 Di danno All'ultimo livello E Resetterete Le cose Della vostra Passiva Le stack Della vostra Passiva Comunque È una cosa Sbilanciata C'è C'è poco Da finire Da finire Da finire 5 secondi di invisibilità Un pochetto Un pochetto Stupido Comunque Anubis Mi countera parecchio Con quella seconda Cos'è che gli stand Non counterano Vorrei sapere Ciao Goobis Ciao Goobis Ciao Goobis Ciao Pazzo Ci ho provato Ci ho provato Ma un giorno Me la riprendo Non ti preoccupare C'è C'è un tempo E un giorno Per ogni cosa Concordo Se riuscissimo A puntare giù Sta torre Senza che Una nuova Erano in due In lena All'inizio Nuova puoi sparire Ora tirami Quei cazzo Di cosi Non male Che l'hanno nerfata C'erano Quei Minion Di terracotta Che ti saltavano Addosso Nuova Li faceva saltare E tu Venivi One shottato Interessante Non negarlo Non posso dire La penetration Con lo stupidissimo Colpo che ti lancia Vabbè Non faccio nulla Nuova Cos'è Cos'è Una poidstone Eh una poidstone Genia Master tactician Oh mio dio Ma fanno danno I suoi miei Oh bravo Noobis Comunque Doppio stun Ma un cazzo Ho sbagliato Comunque consiglio a tutte Di buildare Ho quang Con una build Non Incentrata Completamente Sulla pin Né completamente Sull'attack speed Ma di fare un ibrido Quindi qualcosa Come fatali Sword of Tauti E poi magari Demonic Creep Oppure Telkin e Seringo Oppure entrambi O magari Polinomicon Il polinomicon Stacca bene Con la terza Quindi Sì Anche un altro Degli item Che potrebbero essere Considerati core Se La partita Lo consente LOL Come mai È sparito Tu non hai visto Quello che ho visto io 10 secondi Un allie Ha stato slaino È una noobis Tipo si è smaterializzato Davanti alla mia faccia Noobis Che cazzo Ma è inutile È imbottita di protection Me ne sono accorto Come fare Comunque Se devi essere accorti Stilare le kill La cosa più facile Che sia mai esistita Avendo 800 Mila Di attack speed Con Fottuto corto Con Fottuto corto Sì perché Aggiungere Paroline così Simpatiche Molto inglese Molto british Wow C'è esami C'è esami Troia C'è esami Madonna ti spara Una proiettile In culo Che poi Tra parentesi C'è Awkwanga Uno tra i clear Più veloci Del gioco Grazie Alla Bombasmask Che stacca Con la sua Attack speed Idiota Non riprenderai Mai il pazzo No ma non volevo Cioè volevo soltanto Evitare che tu morissi Era quella La cosa importante Una volta avevo pensato Anche di poter Usare la mia prima Per fare danno Poi mi sono ricordato Che è inutile Anch'io Ho pensato Ho pensato di usare La mia prima La tua prima E la mia prima Diciamo che hanno Lo stesso Sì sì Se colpisci Sì Ma la cosa Stupida È che Il fatto Di darti L'invisibilità Cioè l'unico Pro che Ha la skill Viene eliminato Per Per Del down Che La merda C'è un Bacca su Non è quella Ciao core Salta C'è core che balsa Su un momento che muore Adesso Guarda che mi balsa In faccio I mi roppi Adavid 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 Culo minion d'argilla Minion d'argilla Minion di paglia Minion di paglia Orgord Che cos'è Orgord Se non un castello Di paglia Di tanti di paglia Che bevono pagli Basta Sì sì Un messaggio subliminale C'è un tempo E un luogo Per ogni cosa Le parole di Orgrim Bambana Scusi Grasburrone Grasburrone Per favore Grazie Non si hanno Un nano Un elfo Un naso Un rano Un nanfo Troppo bello Grasburrone Per tir dobbiamo E Gesù Trovare I gelati Che cosa Perché stiamo andando Su un gabb Che non l'ammazzeremo mai Vabbè siamo Un bel po' Ma non avevano un bacasura Sì avevano un bacasura Una volta Prima che sparisse Della faccia della terra Long time ago Long time ago Far far away Sì questa è una puntata Molto Una puntata Una puntata ragazzi Telefilm Smite's anatomy Dr. Smite Game of Smite The Walking Smite Cosa American Horror Smite Esatto Oddio No Abbiamo una C'è un Apollo Smite Art Online Che cosa è Oddio Madonna No vabbè è bello Quella Quella cosa molto Giappo Correggio Giappo con una P La Giappo Cazzo vuoi Hanno visto in merda Fottiti Non l'ho preso Frecca Perché cazzo è un Pythagorean Spice Quel cosa fa molto beta 2012 Boom Che è calpita core E Gesù Quanta gente c'è qui Ma che cos'è Io davanti Tanco Madonna Full AP Apparentemente Sì apparentemente L'ha detto prima di partire E io non vado tank E poi è andato tank uguale Perché Io non ho niente da fare Mi ricordo tanto la scena Gandy dove io ero Stavo usando Gab Ma tu dovevi andare a P No tu dovevi andare tank Avevo la Void No cos'è che avevo La Doom Orb Sì la Doom Doom Orb Che brutte cose Io ero Ah no è vero Tu dovevi andare tank Oddio Io ero full AP Troppo bene Ma l'abbiamo vinta quella Mi ricorda La 3v3 Ma cosa Ovviamente c'era madera Please E' vero Please E' vero Ne perdiamo sempre Con quello scarsone Va bene Core ha fatto addirittura Core ha addirittura 8-2 Mamma mia I mir Come Grazie a mir Grazie a mir Core gioca come Equitalia Equitalia Sono forte con l'arte Mi sa Vuol dire che sei forte con l'arte Di carri più facile del gioco Dopo non si encarga Equicore E' un varus figo Io sono forte con l'arte Mi sa Un varus figo Madonna Sì Mmm Io aiutate che bravo No eres un vein Cosa No eres un vein Vado I lollari Mamma mia No eres una vein Oh mio Dio Una vein Nonostante io Non comprenda Oh cazzo Anubis Ah Bizz Vai Perché scappi da Anubis Non ce lo fai a fartelo Sì che me lo faccio Devo soltanto evitare Il sostituto Avete visto ragazzi Quanto sono utili I Bizz Decisamente riesco a superarmi Che ora si chiama Greater Purification Greater Purification Attaciti Ok Ok Pablo Ok Pablo Ma è proprio un CC gratis Stai cazzo Sì in concordo Cioè l'hanno mi volto Almeno un CC gratis Se non se Lenda e non mira il cooldown Perché li blocca Però non Lo ti ammazza Ma io non voglio Tipo non mi muovo Da salendo Ma il lag è vero Il lag è vero Addio Poche fa No non mi prenderai 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 Addio 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 Intanto Mentre noi siamo qui Gente fa Oh Me la sono ripresa Fuck you Mamma mia Non fa un cazzo di l'anno Da seconda Fuck you Kratos Ti sta arrivando Un gab in culo Sono molto spaventato Terrore Vedi Terrore nei miei occhi Non puoi passare Anumis Oh porco il cazzo Tu non puoi passare Oh regà Famo sta gold fury Sì Sì Prendi Vale Da solo non gli ha fuori Io non c'ho le log altre C'è la e-mir Quindi Eh appena arrivi E-mir E-mir di merda Muoviti Spammiamo tutti i mir Oh Io lo spam E' vero Vabbè Core ormai E vabbè No no Core vattene Sono un genio tattico Ma l'ho preso L'hai fatta L'abbiamo presa Sì l'abbiamo presa L'abbiamo presa L'ho ucciso Ma che palle Quando va Guarda Oh cazzo No ho sbagliato Madonna E-mir E-mir con lo stun Che greve Dove beccate questo Tick a random Naccia Naccia Nua porco il cazzo Nua non naccia Nua Oh no Ah Il danno Il fottuto danno E-mir cosa vuoi fare Sei full No non mi prendi Che cancro Nom C'è un gib No se mi ammazza Che bestemme No 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 Te lo distrago Perché ho tirato la seconda Al posto Sì E' morto No non mi ucciderai mai Oddio Sbammiamo Quale creep Eeeh Demonic Che più più Polinomicon E poi anche Talchines Perché Polinomicon E' tanti più Polinomicon Scarpe Dente Scetro Libro E Runa Ah ok Spiegazione Completa E Esauriente Allora te lo dico Danno 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 And cooldown Redaction Attack speed Attack speed Danno Danno Attack speed Dano Penetration Danno Attack speed Dano ah e questo è anche live stream e il danno che mi fa, e via guarda come muoiono in ritardo c'ho un puzzatia nubis io sono vivo ah ok comunque di cos'altro dobbiamo parlare ah beh l'Odyssey finirà il 6, 9 gennaio 9 gennaio 6 l'Odyssey eh l'Odyssey finirà tra poco parliamo di una settimana 2 massimo si, tra gennaio, comunque i primi di gennaio entro il 10, non mi ricordo se il 9 e il 6 precisamente, comunque è presto e niente poi verrà rimessa l'anno prossimo se non mi sbaglio dai che merda a quello che è dell'anno prossimo figlia di troia di nua madonna quanto mi sta succedendo oh stoimir madonna che greve no core vaffanculo no quel cazzo che l'ammazzo bello però come c'è di creare vingia pazzo è un ritardo ciao come rage il flame è vero ma vacci eh si ma che danno mi fa? avevo tanto una nuova abilità erano tutti in cooldown il video testimonia il video testimonia e tu hai il voice pack certo il voice pack chi sto lo cagagni? mica l'ho preso come chi sto lo cagagni? tanto bellino bellino utile proprio c'è il nostro emir che tanca il coso lava oddio aspetta italiano OP ya 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 spagnolo di merda guarda guys ares numero uno oddio mi dore io fk trust me i amrili si ma no grazie non si me strangero de merda aiutai ma il mont ti stai vedere una citazione ma davvero car dici come il 90% oh ciao ciao gab oh cazzo nobis mi fai talmente paura che sei morto ciao gab non gab vedete quanto è poco molto e molto bilanciato guanga a uccidere i tank Bene, adesso non lo vedrete più Vapor! Quello spavento, lo spavento è vero Oddio, altro che 1 late night, qui si usa smite Tranquillo, smite ultimo qua E nonna quanto speed Yeah! Ok, si si, arrivo io Ok, io vi metto a zappare i mostri Vedi in due Oddio, no, che brutti ricordi Cosa? Io non ci giocavo quello schifo Meglio si Per due anni, Fran Per due anni No, due anni no, un annetto tutto Mamma mia Sai quei periodi della gioventù quando ti senti piccolo Ora entreremo nel territorio segreto di nuova E troceremo al one shot at Non è che si accorge di nuova Ora gli ballo dietro la schiena Nuova è fonte di pro... Ho imparato di prote morte Ho preso attraverso il punto E la madonna! No, no Ragazzi, mi sfido a osservare il danno che ha fatto la minuscola ulti di... Perché hanno? Di Bakasura Cosa è successo? Oddio No, no Un numero da 1.000 a 2.000 No, no Non ho fatto il danno 1.346 di danno, please No, please No, no Non voglio farlo Ops Via Stavo scherzando 4.70 di danno ci stava Cronosfatto Eeeh, il danno è vero Come stavo la mia mamma? Beh Il danno è true, letteralmente Il danno è vero Il terzo è che gli fa fare true damage ogni attacco base Combinato alla ulti Censuralo Censuralo Che cosa è vero? Ma cosa? Sì, sì Cosa, Bakasura fa 70 di true damage a colpo Combinato allo attack speed broken che ha Esatto E la cosa ancora più figa Ma come cazzo fa? E' che con la ulti Ogni attacco base è Aue Fa Aue Danno ad area Danno a fottutare True damage c'è ad area Troppo Morgana incoming cosa? Non c'è Nox Oh Morgana A parte che Morgana qui non c'è C'è Nox che è praticamente la stessa cosa Non è molto più forte Sì, vabbè Forte per se stessa Morgana è un super decente Nox non è un super Nox è un solo lane Talmente OP che è un solo lane Come tutti gli OP Non è vero tutti quegli OP sono jungle Come faccio ad avere 52 mana regen? Eeeh Semne uma passiva Wee 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 Gold fury Gold fury 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 Nick fury Nick fury Triste Midor AFK trasmiam really good Ok Davide Oh Cristo non ho voglia di leggerla Davide volavo altro fiamar del monte Wow quanghe Artemis comas minias walls Ok Ma sei sugato come pochi Cosa cosa c'è entro? Ah ok Ah ok aspetta Please Iei Eeeh Poi che altro? Roi Mi riesco a chiare? E' esploso E' esploso come pochi Cos'è sta merda a terra che non mi posso muovere madonna? Non si sa Nua ma che cazzo di danno fai mortacci tua Fa un bordello di danno Se ti prende con la combo dei minion esplosivi Non si sa E' pare dei d'Ara ma no I d'Ara ma che cosa Fa cagare dei d'Ara E' meno male che mille Ma che cazzo? Cosa vuoi tu coso? Sei nato male madonna? Che cosa vuoi dalla mia vita? Ma esplodi Ma esplodi Ma esplodi Avrei insultato Metà Metà pianeta Finto brasiliano Avrei insultato Metà pianeta Però ok Oddio No non avrei dovuto farlo Mi sola se vuole bacasura No la solo io Un cazzo proprio Finiamo sta roba qua Sti fotodattivi Secondo me il blink worka Perché aspettando 5 secondi Tecchamente il bleed ce n'ha solo 3 Prima che tu possa usarlo Dovrebbe workare Sì Io lo countero male C'ho un doppio assurdo Oh ma stanno andando tutti left C'è right Eh beh te credo Quanti siete? Tutti C'è tutto il team right Manchi solo te vale Certo che me frega Devi resistere Sono uguale cosa vuoi? Che di merda Bello 2.14 attack speed Cazzo ho bilanciato Complimenti ai reds Per aver rilasciato un champion così bello Ma non potevo lasciare il vecchio guang e non nerfare Google can E non rilasciare questa immondizia E no sennò come lo rilasciavano questo? Ciao Non lo rilasciavano appunto Non lo rilasciavano E questo è il problema È che esiste questo coso Dio santo quant'è No Bizz Come? Ah già l'ha ulti OP Ciao Bravo Vediamo Valencer che con la sua danza dei pesce ca Ma mi prendi La danza dei pesce ca I pesce gatti No Madonna avessi Avessi lentato una seconda E tutto l'ho fatto un cazzo di danno Fanno meno danno della mia prima vado Anzi anche della mia testa La mia prima fa più danno vado No Però hai un attack speed del Cristo Perché ero 2.14 Bagasura guardate io sono Bagasura Sono Najah Sono Mercury Sono tutti i champion insieme E sono pioppi di tutti quanti Ma to Guarda come è solo lo coso Non esiste Ciao 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 Mangialo mangialo Executed Du 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 Vai su nua Si si vado su bollo Guarda 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 No vaffanculo No no Ma c'hai nua sotto i piedi Ma mi tira i co Mi stunna e muoio Ma no Figura se ti prende Ma non ce li hai i bits Ma che c'ho c'ho i bits Sono 18 o 2 Cosa mi servono i bits O loro devono scappare da me Peccato che se ti Ti bloccano sei morto Cosa mi devo bloccare? Nua Anubis Non li scrivo tutti Ok Il mio potere Ho fatto esplodere sui Il mio potere è Beh via i loro attacchi Esatto Sono Hoquang Si spaventano troppo per attaccarmi Una seconda è crepa Un Hoquang fiddato Che novità No Prima partita in conquest con Hoquang 34-9 e pentakill Cazzo Madonna non ho fatto neanche Devo arrivare alla mia seconda Hoquang è troppo sbilanciato Comunque alla fine C'è forte quanto mercury Ma il mercury OP Quindi non è che sia una grande Cosa Una grande Un gran soldiere Che cacchio lo tanca? Eh? Che cazzo c'è che dice Oh mio dio no Non li hagancarono tutti Ah'micchia Ce lo fa Oh Madonna Esploso Esploso No l'ho presa io la firefight kill No l'ho presa io No l'ho presa lakey Anche a me What the fuck Vabbè da tutti La cosa migliore è che lo scudo di Gab Non conta come per la mia ult Quindi lo posso soltare attraverso lo scudo Tranquillamente E no sarebbe stato un po' più come counter Che cosa? Il fatto che lo scudo di Gab Poi sai quanti bug Qualcuno la stunlli La madonna in male Vabbè il danno è vero Sai che mi ha bisciottato A 2148 Cosa? 2148 In un secondo Questa partita sarebbe dovuta finire Anche 40 minuti fa Però prolunghiamo Non troppo però Perché poi è diventato troppo pesante il video Oddio Troppi punti morti In questa partita Finiscila dai Tira giù la finiscila Così va così va Oddio il danno Boom Non ti fa nulla Ok Dicevi? Sei morto Fa che? Fa che io Kratos È lì dentro Non gli hai fatto nulla Sei morto Quanto Quattro e undici C'avevo tipo 390 Mi non rifà la vita Però il polinomico non fa troppo cagare Guarda come hai 19-3 Madonna Che palle Sono 50% del magical power Ma la mia terza non gli ha fatto un cazzo Madonna Scusa Corriamo Madonna C'ho 67 Quindi che cazzo Mi senso Cioè devo prima tirare la seconda E poi tirare la terza E poi me lo conta come polinomico Non l'ho capita sta cosa Allora come conta il polinomico Il polinomico Conta la prima volta che attivi la seconda Poi la seconda volta che lo attivi No 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 la terza La terza dice che attiva È considerato un basic attack Se attiva gli item effects Se io tiro la terza Ho comunque tirato una skill Ed è un basic attack Quindi mi dovrebbe far proccare il polinomico No non te lo fa proccare Ma non ha senso scusa allora È completamente No solo la skill di Cabra Khan Fa proccare il polinomico Insieme alla skill Quella che è lo stun Ma lo dice qui nella skill Che attiva i basic Che attiva i costi Dei basic attack Vabbè in quello di Cabra Khan Non lo dice però lo fa Questa skill è considerata Questo colpo è considerato Un basic attack E attiva gli item effects Quindi deve proccare il polinomico Se lo fa allora Non fa proprio un cazzo di danno E appunto Lo fa quel polinomico Un item di merda No no il polinomico Un item di merda Cioè prima che Il 100% in più Faceva ora il 50 L'hanno stranerfato Il polinomico Ma parecchio proprio Spero prima Sono troppi mid Poi la cosa migliore Che fino al 2013 Si era considerato Il peggior item Della storia di smite E poi subito dopo E OP 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 Nerf Perché è uscito Kronos E gente leggenda Dicono E' appena uscito Il polinomico decente Bastava un attacco base Telefinibile Oddio Di mino non sono volati Dio caro Come se Kronos Jump 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 Ok ok Vabbè la prima La prima di Kronos Fa solo quel Fa anche un po' Di danno Ah giusto un po' Giusto un po' Che cosa vuoi Che balle Bacasura Comunque la mia ultima Diventa inutile Faccio realmente tanto danno Che serve solo uccidere Gebb Ma Gebb Non lo posso uccidere Perché è proprio Underfiddato Quindi Qualcuno attacchi Quel Oh mio dio Ho notato Qualcuno attacchi Quel titano No ok Non con Anubis No No concordo E la madonna Sono vivo Sono vivo Se non mi attaccano Sono vivo Ah l'avete uccisa Prima che Ok C'è Anubis Merda Ai Esplodi Danno vero Si ma C'è Non so Cosa vuole Ti do una mano Ti do una mano Tiramolo per aria Così non mi rompi Tutto il cazzo Se esplodesse Bello Si comunque Se la mia ultima Non riesce a One shotare il nemico Non solo gli fa danno Ma la utirà anche per aria Per motivi Si infatti Tipo un po' come la ultima Di Kumagarna Solo dura un po' di meno E tu puoi comunque scappare Esatto Perché non è up No Che tu lo uccida o no Poi comunque scappare Quella volta Boh gg Good game No no Gang Good game Good game Good game I am the dragon king I am the dragon king E la partita si conclude qui ragazzi 42 minuti di bellezza Spero che vi sia piaciuta E se vi è piaciuto Come al solito lasciate un mi piace Scherzo Commentate E scrivete nei commenti Chi volete vedere Nei prossimi video Speriamo di fare video più Io ho la lista di 42 day Che vogliono Anche io Però non neanche guardare Speriamo di fare video più Più frequentemente Tipo cabragan Può cagare Può cagare Può cagare Schifo Ci ha giocato E velovo Lo faremo Sì Vero paz Vero 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 paz È tutta colpa Ricordate che la prossima volta Che non vedrete video Per tipo tre mesi È colpa di buzzkiller Quindi andate sul canale Di buzzkiller A romperli i coglioni È sicuramente 100% Ma chiedete a chiunque Se è colpa di buzzkiller Dove vi preoccupate Ormai La mia propaganda È stata fatta Andate da lui Vabbè Ragazzi Il virus si conclude qua Addio a tutti E mi raccomando Se non vedete altri video È tutta colpa di Vale Ciao a tutti Addio